Si vanno a sistemare in avanti, Salageta e Garic, riceve Lavezzi un traversone all'indirizzo di Garic e del rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! E si è anche infortunato, si è anche infortunato Savini, è stato Savini, anzi no, Bogliasino, Bogliasino, un intervento di testa in tuffo, ha gonfiato la rete però c'è il sangue sul volto di Bogliasino.